Sono Vittoria Costanzo, la proprietaria di Villa Costanza in Maiori. Collaboro con Villas in Italy da oltre tre anni. Sono contentissima della scelta che ho fatto di collaborare con loro perché hanno superato tutte le mie aspettative. Sono delle persone molto, molto, molto competenti, performanti. Seguono il cliente passo passo. Solitamente tante cose che dovrei fare io, loro le delego e lo fanno sempre col sorriso e con tantissima professionalità. Spero di continuare a collaborare con loro e lo raccomando e lo consiglio a tutte le altre persone che come me sono proprietari delle meravigliose ville sia in costiera che altrove in tutta Italia perché il nostro patrimonio italiano non ce lo può togliere nessuno.